Controlli a tappeto sui distributori di benzina che negli ultimi tempi hanno messo in luce diverse irregolarità. A partire dai sei distributori in provincia, multati tra Vicenza, Dueville e Asiago, per non aver adeguato i prezzi al consumo, così come deciso dal governo in relazione alla riduzione delle accise. Ne sono state fatte già diverse decine, come abbiamo avuto modo di dire qualche giorno fa, proprio anche dai vostri microfoni. Noi stiamo continuando su tutto il territorio della provincia, abbiamo sostanzialmente due direttrici principali. La prima è quella di fare in modo che i prezzi siano ben chiari, siano in linea con quelle che sono le indicazioni del mercato e soprattutto con le iniziative normative che sono state assunte a livello centrale. Quindi vogliamo che ci sia una chiara esposizione dei prezzi perché riteniamo che sia necessario che i cittadini siano informati correttamente. Devo dire che la stragrande maggioranza dei distributori che stiamo controllando rispettano in maniera molto esatta queste disposizioni. Controlli che si concentrano su più direttrici e che saranno intensificati almeno fino a fine aprile. Di pochi giorni fa il caso eclatante in cui è stato trovato dalle fiamme gialle beriche del carburante annaquato che veniva erogato durante i normali rifornimenti agli ignari clienti e il gestore dell'impianto segnalato per frodo in commercio. La seconda direttrice è quella di evitare che ci possano essere tentativi un po' più complessi di frode. Mi riferisco ai casi in cui ci siano delle erogazioni di carburante che sono inferiori rispetto a quelle che le colonnine indicano oppure ai casi ancora più gravi di miscelazioni o sofisticazioni di prodotto che naturalmente vanno a creare anche danni ai motori dell'autovettura. Su questo piano ci stiamo concentrando in maniera importante e non escludo che di proseguire per tutto il mese di aprile.